I vigili del fuoco sono intervenuti ieri in tarda serata in via Bosco Alto a Megliadino San Vitale per un'auto finita contro un palo dell'illuminazione pubblica. È rimasta ferita una ragazza 37enne. I pompieri, arrivati da este con due automezzi, hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto la donna che è stata stabilizzata dal personale del SUEM 118 e poi trasferita in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco prima della mezzanotte con la rimozione dell'auto e la messa in sicurezza del palo dell'illuminazione pubblica.